Buongiorno a tutti, chi mi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganessimo. Allora vi ricordo tanto che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e Casera Postale 53 Malostica Vicenza. Adesso all'inizio della trasmissione vi lascio la parola a Francesco che vi farà, illustrerà un paio di cose. Sì, un paio di iniziative, si chiedono a che fare appunto una con la radio e una più in generale. Allora io ho visto che poi tra l'altro gli amici della radio che lo organizzano appunto sono partiti un po' in ritardo e è anche giusto sostenerli e chiedere agli ascoltatori che diano un loro contributo, un loro sostegno. Voi sapete che già da quattro anni Radio Gama 5 organizza una sfilata che si chiama Paruni del Mondo che come ogni anno ha sempre un tema, uno slogan diverso e quest'anno appunto è la quarta edizione. Quest'anno viene organizzata domenica 26 giugno 2005 e è sempre il classico giro per il vento in vari posti in cui si percorreranno varie zone, sempre col tema dell'acqua e qualcosa che ha a che fare appunto con un paese in via di sviluppo di cui abbiamo bisogno di un sostegno. Si consiste soprattutto in un giro motorizzato in moto e chi vuole può partecipare alla festa. La domenica 26 giugno appunto c'è la quarta edizione di Paruni del Mondo. La partenza è alle ore 9, con ritrovo presso il centro commerciale Giardino del Sole a Castelfranco Veneto. L'arrivo è al parco natural di 9 alle ore 13. Il posto è lo stesso dello scorso anno, un bel posto veramente meritevole e incantevole. Io invito tutti gli ascoltatori a sostegnerne questa iniziativa della radio appunto che è il Paruni del Mondo, quarta edizione. Casomai lo ricorderemo anche in altre trasmissioni. Io voglio anche ricordare una cosa che avevamo accennato su internet. Il sabato scorso a Montecco Percalcino c'è stata la rappresentazione teatrale cooperata dal teatro continuo dell'opera Reiti a Dea della nostra memoria. Noi siamo andati a vederlo assieme ad altri amici ed amiche e non avevamo mai visto l'opera anche se ad Ettore e a me ne avevano parlato e l'avevano descritta. E posso dire che è veramente un'opera veramente bella, interessante, ben realizzata. Bisogna proprio fare i complimenti al teatro continuo di Padova per questa sua azione teatrale così significativa e piena di simboli. È un'opera non certo facile, è molto spettacolare, però piena di simboli, di riferimenti, di miti, di racconti. Ha un'enormità di bagaglio storico e per chi la volesse comprendere a fondo sono ore e ore, sono oltre due ore di opera teatrale. Ma tra l'altro di opera teatrale a ritmi molto veloci, quasi di corsa, però pieni di significato, di simboli e di riconnessione all'antico. È merita di vederla, perciò se avete occasione di andarla a vedere, se la trovate fatta. Se qualcuno tra l'altro organizza qualche festa locale, io consiglierei vivamente di contattare il teatro continuo per poterla rappresentare. È una storia che ha a che fare con moltissimi simboli e c'è tra i moltissimi spunti simbolici e tra i molti spunti che danno ricchezza, profondità, enormità al significato, alla bellezza, alla varietà di questa opera, ce n'è una che mi ha praticamente impressionato. È quando la Dea Reitia regala la scrittura e insegna la scrittura agli uomini. Non regala un testo sacro, non regala insegnamenti, perché la Bibbia è un Dio che dà i comandamenti, è un Dio che dieta, che dice, che stabilisce le cose da dire, da fare, da sostenere. La Dea Reitia dà uno strumento che poi ogni uomo può utilizzare. E già questo dà la distanza, la bellezza, il significato proprio della visione politeista e la visione appunto cristiana. Ogni Dio monoteista ha un libro sacro, ha un testo, ma non insegna le tecniche di trasmissione. La Dea Reitia è famosa appunto perché insegnava questo. Nell'opera teatrale appunto a Reitia, Dea della nostra memoria, giustamente gli autori hanno ricalcato su questo, sul fatto che Reitia dona senza chiedere nulla in cambio. Non chiede sacrifici, rinunce, non chiede precetti morali, non chiede di avere fede, non chiede di rinunciare a qualcosa, non chiede di sottomettersi, non pretende niente, ma liberamente regala uno strumento. Dona uno strumento e insegna come utilizzarlo. Di cosa verrà fatto questo strumento? La Dea non se ne occupa. Saranno gli uomini con la loro responsabilità a farlo. E penso che questa opera del teatro continuo, tra l'altro una cosa che mi ha veramente meravigliato, è stata il numero enorme di bambini presenti. E questi bambini sono rimasti lì incollati a vedersi lo spettacolo senza mai muoversi dall'inizio alla fine, meravigliati anche delle tematiche. Perciò se i genitori hanno una volontà di dare qualche insegnamento utile, non portateli alle sagre religiose, non portateli a messe, non mandateli all'oratorio, non portateli a vedere delle opere teatrali. E Reiti, a Dea della nostra memoria, a nostro avviso, pur non avendo una valenza religiosa, ma avendo solo una valenza culturale come teatro, è capace di stimolare nei bambini la curiosità per la loro storia, per il luogo in cui vivono. Perciò io faccio i complimenti proprio a chi ha realizzato questa opera e se ci saranno occasioni che verranno rappresentate vi darò le coordinate. Ecco, bene? Bene, fa parte d'altronde tutto quello che è il principio fondamentale del paganesimo, cioè mentre il monoteismo dà la regola e chiede la sottomissione alla regola, i pagani si prendono lo strumento per farsi le regole, come Zeus, Zeus dà nomos, dà dicche agli esseri umani, non dà il decalogo, cioè per cui dandogli la giustizia, sono gli esseri umani che poi devono praticare queste giustizie in base al loro cuore, al loro intento. A differenza invece è il Dio dei cristiani che dà un decalogo e dice davanti a sto decalogo mettetevi in ginocchio. Ma tutte le civiltà antiche ci sono sempre state delle divinità che portano gli strumenti agli uomini, cioè Saturno porta l'agricoltura, la giustizia, no? Cioè porta tutta una serie di cose con cui gli uomini vivono, a differenza di un monoteista che non porta assolutamente niente se non la distruzione, cioè dice distruggi perché tanto ci penso io, insomma. Per cui c'è questo scontro che è in atto e che sarà uno scontro perenne, proprio di visione del mondo, visione della vita, non solo dal punto di vista religioso. Francesco cosa faccio? Mi scateno? Vai, 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 vai. Allora, Francesco usate il termine giusto, parti, parti, nel senso che ormai fra qualche giorno una delegazione della federazione pagana partirà, andrà ad Anversa, naturalmente sperando che gli aerei non crozzano, che tutto sia puntuale, che non ci siano disguidi, non ci cada il cielo sulla testa, ma non cadrà certo domani, come dice Obelix, partiremo per Anversa al congresso mondiale delle regioni etniche. Sarà il secondo anno che ci partecipiamo. L'anno scorso abbiamo partecipato ad Atene e tutto sommato per gli strumenti che avevamo, per la sprovvedutezza con cui ci eravamo presentati, per quanto buona volontà ci abbiamo messo, è stato un buon risultato, il buon risultato è stato ottenuto con un riconoscimento formale della federazione pagana come membro attivo del VCR e questo penso sia stato un buon risultato portato a casa. Se voi guardate il sito del VCR, la federazione pagana praticamente rappresenta Italia per il VCR, questo direi che è stato un buon risultato, anche se si può far meglio, naturalmente i nostri limiti sono sempre tanti. Quest'anno invece ad organizzare il congresso delle regioni mondiali del VCR è Anversa ed è il gruppo di Asatru di Traditie. È importante precisare il gruppo Asatru di Traditie perché il gruppo Asatru di Traditie è uno dei tanti gruppi Asatru, non è l'unico gruppo, esattamente come noi, noi diciamo siamo i pagani ma sappiamo benissimo che in Italia c'è molte altre persone che si definiscono pagani, chiaramente ognuno poi porta avanti il suo modo di vedere la vita, il suo modo di vedere le cose, lo porta avanti con le sue passioni, con il suo cuore naturalmente. Quando siamo davanti alle idee, alle passioni, naturalmente là si discute di idee, di passioni, non si discute di sistema giuridico o di legalità sociale, la passione è passione, se non c'è la passione dopo non si può neanche mettersi d'accordo. Il gruppo di Traditie di Asatru organizza il congresso l'8, il 9 e il 10 giugno, noi partiremo, saremo sul giorno 7 e gli Asatru appunto hanno mandato il comunicato di come si svolgerà il congresso. Ve lo leggo brevemente, allora il congresso innanzitutto è stato reso possibile dai finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, della città di Anversa e da sponsor privati. Per cui intanto cominciamo a sottolineare questo che non so quanto in Italia una roba del genere avverrebbe, visto che è il Ministero degli Esteri che sponsorizza il congresso e la città di Anversa, per cui sinceramente ho qualche dubbio, visto che qui neanche il teatro di Cittadella si prestano per fare una commedia, però voi sapete che all'interno dell'Unione Europea vige il principio che ciò che è riconosciuto è una parte riconosciuta dappertutto. Naturalmente molte forze cercheranno di non far riconoscere le cose, però ormai le cose fanno parte della storia, emergono, non si possono fermare le idee, come diceva appunto Franco Carraro, le idee non si fermano, si possono fermare chi manifesta le idee ma non le idee. E comunque il Ministero degli Affari Esteri del Belgio e la città di Anversa e sponsor privati e questo naturalmente permette agli organizzatori di ridurre le spese ai partecipanti al congresso. Ci sono varie indicazioni per la città di Anversa, dove arrivare in aereo, dove arrivare, varie indicazioni per arrivare in macchina e con numeri telefonici per mettersi in contatto una volta che sia in Belgio, comunque ci saranno da aspettare vari personaggi. Al congresso è tassativo, non saranno tollerati propaganda politica, insegne politiche, atteggiamenti aggressivi o comportamenti inappropriati. Chiediamo a tutti di venire per quanto possibile in abiti tradizionali e ricordatevi che se c'è un rituale la sera come i giorni 8 e 9 di giugno, 8 e 10 di giugno non avrete tempo di tornare in hotel per cambiare di abito. Questo cosa significa in pratica? Innanzitutto che si sono banditi qualunque riferimento politico, cioè falce e martello, svastiche e altre cose non devono assolutamente esistere. Le persone si presentano con le proprie idee, portano il loro bagaglio culturale e si confrontano con le proprie idee e col proprio bagaglio culturale. E questa è una regola che nel paganismo abbiamo sempre adottato anche qui in Italia, vero Francesco? Non abbiamo mai accettato o visto sempre con sufficienza chi si nasconde dietro una sigla o chi fa riferimento a cose diverse da quelle che lui non presenta in quel momento. Mi sembra corretto questo, la federazione pagana si presenta con i propri simboli e con le proprie idee e con le proprie affermazioni, dopo vi dirò anche con cosa ci presentiamo. Ci saranno un rituale, il rituale il giorno 8 e il giorno 10, noi parteciperemo sicuramente al rituale del giorno 8 e assisteremo al rituale del giorno 10. Il rituale sarà comunque un rituale del fuoco e come abbiamo fatto ad Atene, il rito di Atene in cui abbiamo declarato l'inno al fuoco, l'inno estivo in pratica del sostizio d'estate, così faremo anche in Belgio ad Anversa. Non so se ad Anversa faremo sia in italiano che in inglese, dipenderà un po' dal tempo e dalla possibilità. Il congresso praticamente ha come tema la spiritualità e la tradizione in un mondo antitradizionale. Scopo del congresso è quello di proporre risoluzioni da presentare all'ONU, alla comunità europea e ai parlamenti locali. Queste risoluzioni verranno stese da 5 rappresentanti e discusse in gruppo durante i 3 giorni di conferenza. naturalmente ci sarà discussione con il pubblico. Noi avremo una persona che dovrà farsi carico, visto che conosce l'inglese molto bene e che ha preparato anche tutti i lavori. Non è studiato? Non è studiato allora te? No, io ho studiato Francesco e ti assicuro che ho studiato mentre portavo tonnellate di roba ripetendo frasi, però ti assicuro che non è sufficiente. Sarà sufficiente quello che ho imparato per ordinare una birra o per dire Wayne, vino o water, ma di più di questo non vado. Non mi sono impegnato, faccio veramente schifo. Non è così facile, ci vuole molto molto lavoro, però è importante farlo il lavoro, iniziare. Un'altra cosa, il congresso naturalmente si svolgerà solo in inglese e qui si scusano gli amici dei traditi degli esattori perché ad Atene hanno notato che le traduzioni rendono il congresso troppo complicato. Naturalmente faremo in modo di organizzarci con le traduzioni e quello che riusciremo ad avere. Anche perché gli speaker, gli speaker parleranno abbastanza lentamente per circa 30 minuti, saranno 5 speaker e useranno proiezioni da powerpoint per illustrare i concetti, per cui avremo anche possibilità di vederli. Naturalmente ci saranno intermezzo, pause musicali, visite alla città, ci sarà tutto quello che ci sarà e ci saranno pasti comuni, ci sarà la possibilità di fraternizzare con gli altri gruppi, ci sarà la possibilità di presentare i propri materiali e le proprie cose che si fanno. Uno dei speaker è Trikunas, un altro speaker viene invece dall'Australia ed è Jessie, Jessie la ricordo lo scorso anno, poveraccia, si è anche rotto un braccio, è scivolata, è una signora indù, una signora anche molto forte dal punto di vista psicologico. Poi ci sarà un altro speaker che è il Poklaial e infine Stefan van der Eind che terrà il discorso di chiusura, Stefan è anche un nostro amico che abbiamo conosciuto lo scorso anno giù ad Atene. Questo praticamente è tutto, poi ci sono le varie cose, poi ci sarà il rituale di chiusura con la collaborazione di tutte le comunità asatro dei Paesi Bassi per cui ci sarà la possibilità di trovarci con tutti. Il congresso offre la possibilità di esporre i propri materiali, cioè di portare i propri materiali, di farli circolare, naturalmente avremo quelli degli altri, noi porteremo i nostri e cosa porterete? Come porteremo? Come porteremo? Porteremo un volantino intanzitutto, un volantino con tutti gli indirizzi internet, con tutti gli indirizzi radio, questo vedremo un attimino, dopo eventualmente ti diremo qualcosina. È arrivato un fax in questo momento. Porteremo un volantino con tutta una serie di indirizzi internet, forum, main list, siti in cui presentiamo tutte le nostre idee perché d'altronde noi abbiamo messo tutto in internet per cui non ha senso portarci tutto il materiale su ad anversa, perché chiaramente ormai tutto il mondo usa internet e quando hai tutto quanto in internet basta che la gente ci clicchi e ci va da sopra. Nel volantino in pratica è data una spiegazione, dice che la federazione pagana si è posta a un problema fondamentale. Qual è la tradizione del paganesimo in Italia? Non è un problema da poco, perché da quello che sono i nostri resti tombani, cioè i nostri resti funerari, noi abbiamo una tradizione pagana che risalve al paleolitico, all'uomo di Nendertal. Fatevi un po' voi qual è la tradizione religiosa in Italia. Passiamo Nendertal, passiamo tutte quelle popolazioni preitaliche, i popoli del mare, i cosiddetti misteriosi popoli del mare che invasero l'Egitto, attaccarono la Grecia, chiamati anche filistei in Palestina, non erano altro che i sardi, i sicani e i tirreni. Fatevi un po' voi da dove venivano questi. Poi abbiamo avuto gli etruschi, i sanniti, i bruti, i veneti, i celti, i magna Grecia, Pitagora è italiano, tanto per sottolineare, se proprio vogliamo essere pignoli. Qual è la tradizione religiosa in Italia? Poi arrivano i romani, c'è la tradizione di Numa, c'è la tradizione imperiale, c'è la tradizione di neoplatonici. Qual è la tradizione in realtà religiosa in Italia tradizionale? Arriva il cristianesimo e spazza via tutto. Francesco, come facciamo a scegliere noi una tradizione? Beh, sai, non è che uno deve essere una tradizione, anche perché non è che noi siamo testimoni di qualcosa, nel senso che non abbiamo da ripetere meccanicamente un insegnamento, un dogma o dei comandamenti, ma i pagani sono fatti dagli uomini, tenendo conto che le divinità non nascono in un certo momento in quanto non c'è un inizio, non c'è una fine, perciò sono divinità che muoiono, divinità che nascono, divinità che si risvegliano e questo è un qualcosa che appartiene al paganesimo, perciò esiste un paganesimo di mila anni fa, un paganesimo di cento anni fa ed esiste un paganesimo di adesso. E ricordatevi poi che nel paganesimo c'è il discorso dell'interpretazione, cioè una divinità greca, una divinità celta, una divinità veneta, una divinità di romantica, una divinità egiziana viene interpretata nella propria cultura, per cui molti caratteri delle proprie divinità assumono caratteri degli altri, perché ci si accorge che quel divino ha anche quegli aspetti, per cui ogni cultura scopre aspetti del mondo in cui ci circonda. Ma anche perché ci sono le divinità a pagane che non hanno a farsi catalogare, cioè nel senso che sono divinità della trasformazione e vogliono sfuggire alle chiese, ai dogmi, all'imposizione, alla codifica, cioè la molteplicità, la trasformazione, l'assumersi in molti aspetti, implica proprio la volontà di sfuggire a un inquadramento. Cioè noi non ci mettiamo a spaccarci la faccia per dire se Cristo era divino o era uomo o viceversa, come fanno i cristiani, cioè noi tentiamo di capire gli altri cosa credono, ma nelle cose non accettiamo bandiere o etichette così gratuite, cerchiamo però di capire le cose, cioè il cammino e vediamo se nel cammino ci sono degli incroci, ci sono delle ecati, ci sono dei lari in cui si può mandare informazioni e ricevere informazioni, questo è il paganesimo. Non esiste una teologia pagana, esiste una teologia cristiana, non c'è bisogno di un concilio di nicenea per stabilire se le donne hanno o no l'anima o altre cose del genere, queste sono problematiche, tematiche folli, pazzesche, malate e perverse che appartengono esclusivamente al monoteismo, cosa che nel paganesimo è un problema che si pongono in questo genere, non si pongono il problema della creazione, di sapere la volontà di Dio in quanto l'uomo essendo Dio dovrebbe conoscere la sua volontà e di conseguenza non c'è neanche il bisogno di riconnettersi a un qualcosa che non ci appartiene, a un qualcosa che è totalmente astruso come la teologia cristiana o la teologia di ogni monoteista. Allora, noi portiamo soltanto questo volantino che tiriamo circa in 200 coppie e lo portiamo su, proprio per esporre, a darlo a tutti gli altri partecipanti, insomma per far comprare da ciò che è il cristianese. E poi, grazie a una persona che ha lavorato come una pazza in questi mesi, ha lavorato con l'istituto lei, diciamo, ringraziamo un miliardo di volte, e portiamo anche una piccola fanzaina, una piccola rivistina fatta in maniera artigianale, la Vox Carmenti che sarebbe l'organo ufficiale della Federazione Pagana, tradotto in inglese per il congresso, il quale ha praticamente solo tre articoli, un piccolo articolo che riguarda la spiegazione del simbolo della Federazione Pagana, è un articolo molto corposo riguardo le religioni politeiste dell'Italia pre-romana, ed è un articolo molto solido e anche molto articolato, che serve anche per permettere alle persone di riuscire a capire la complessità di quello che è la religiosità, di quello che sono le varie popolazioni prima dell'arrivo di Roma, cioè che qui in Italia veramente è una cosa notevole, anche perché i resti ci sono rimasti, cioè noi abbiamo reperti archeologici, è vero che in Grecia ha i reperti archeologici dell'età micenea, dell'età molto antica, però in Grecia c'è sempre stata una specie di continuità, anche fra la religione micenea, cioè Demetra è una dea madre che ha attraversato tutta la Grecia antica, dagli albori, fin dal 1200 a.C., per cui queste divinità hanno sempre avuto una continuità nella storia greca. In Italia invece c'è stata anche la rottura, è vero che Marte e Ercole sono passati in uno lato, ma c'è stata spesso l'interruzione di vere e proprie tradizioni, per esempio Mefite era una dea madre, una grande dea madre dei Sanniti e Mefite viene assunto dai Romani come se una dea madre, ma una dea madre che guarda un po' a ciò che imputridisce, cioè a ciò che marcisce, che poi è fonte di vita ciò che marcisce, non è che non sia una dea madre, però viene assunto sotto quell'aspetto dei Romani. Per cui noi abbiamo un sacco di tradizioni che chiaramente si combinano, perché non è che si perdono, però molte cose vanno dimenticate, cioè vanno assorbite e abbiamo centinaia di tradizioni, tant'è che Dumezil stesso davanti alla regione romana è allibito, cioè Dumezil è colui che scopre che la regione romana e i Veda sono la stessa cosa, per cui è chiaramente una cosa abbastanza sconvolgente. È vero Francesco? Bene, per noi non certo ci sconvolge, nel senso che uno ricercatore che pensa di trovare la povertà, l'elemento più basi, classici del monoteismo, si trova in realtà ad avere continue aperture, continue connessioni e nessuna interruzione, perché il monoteismo rappresenta sempre la separazione e l'interruzione di una tradizione, di un popolo, il poeteismo in realtà non rappresenta mai la separazione o che venga troncato, sospeso o cancellato qualcosa, ma apre e continua connessioni verso altre nuove realtà, ed è la continua trasformazione della vita. E infine un articolo, un articolo di William, che parla alcune osservazioni sull'imperatore Giuliano. Tutto questo è stato tradotto, praticamente il simbolo della stella a cinque punte, che è praticamente il senso stesso del nostro essere pagani, cioè l'uomo che si costruisce nell'universo, che affronta la vita con passione e determinazione, le civiltà preromane, le religioni preromane e il discorso, alcune osservazioni sull'imperatore Giuliano. Questo praticamente sono gli articoli di questa piccola fanzine che va su in Belgio. Ci sono quattro fotografie, una fotografia riguarda una statua di un martedì un guerriero picceneo, dei Piceni. Una fotografia riguarda l'imperatore Giuliano naturalmente a corredo dell'articolo. Una fotografia riguarda il rituale dell'equinozio d'autunno, la divisione del fuoco. E una fotografia che non c'è in quello che gli do a Francesco, però farà felice i nostri amici di Reitia. Ci sarà la foto di gruppo che è stata fatta durante il rito su altipiano di Asiago, in cui c'è lo standardo della Dea Reitia dietro tutti i partecipanti, così anche la Reitia arriverà ad Anversa, diciamo così, fra gli Asatru nel Belgio. Poi la rivistina si conclude con il volantino che vi ho detto prima inserito e con varie note di presentazione terminali. Porteremo su questo, poi l'amico Ferdinando preparerà dei cd, se ci riesce speriamo di sì, relativi al congresso che è stato ottenuto ad Atene lo scorso anno, vediamo di farne un omaggio agli amici che abbiamo conosciuto ad Atene, e poi sarà preparato nei limiti del possibile un cd relativo alle chiese cristiane costruite sui templi pagani. Cioè c'è stata una ricerca che è stata fatta con un database fornito dall'ONU, dall'UNESCO anzi, dove sono state catalogate circa 200 chiese italiane che sono state costruite su siti pagani o in quali sono state riciclate colonne, basamenti, altari eccetera di fonte pagana. Questo è quello che portiamo su in Belgio, oltre a noi stessi naturalmente. Se beh, casomai se giovedì prossimo Claudio riesce a collegarsi, lavoreremo anche una telecronaca. Sarà un esperimento, vediamo se riesco a fare la telefonata interurbana e internazionale, e vediamo se c'è la possibilità. Devo solo io tecnicamente riuscire a farlo. Io sulla tecnica, anche se sono un tecnico, non ci vado molto d'accordo sinceramente. Va bene Francesco, questo è tutto per il momento. Sì beh, logicamente i congressi del Vuccellare sono sempre i momenti importanti, ovvio perché danno la dimostrazione a livello, almeno europeo, poi più ampio a livello internazionale perché appartengono anche religioni fuori dall'Europa, appartengono al Vuccellare, sono organizzate, sono federate e sono attive, di come il paganesimo stia progredendo con ampi passi in tutto il livello mondiale, proprio nello scontro con le religioni monoteistiche. Scontro che, ripetiamo, non è cercato dal paganesimo, ma è cercato dal monoteismo. E ogni giorno, ogni ora, purtroppo, abbiamo sempre segnali continui proprio di come il monoteismo sia violenza e soprafazione. Il Vuccellare dà anche un significato che, oltre alle tradizioni dei singoli paesi, non è sufficiente o non è adeguato a pensare che il proprio paese rimanga fuori da questi scontri perché il monoteismo con la mania di missionare dei salvatori arriverà ovunque. Perciò paesi che hanno anche maggioranza di popolazioni pagane o non monoteistiche, si trovano ogni giorno a doversi scontrare con questo. Noi ricordiamo spesso il caso appunto dell'India, ma l'India purtroppo non è solo l'ultima terra di conquisto di missione, ma esistono molti altri posti in cui... Stanno venendo anche in Brasile scontri piuttosto violenti da questo punto di vista. Sì, e per questo è importante che il Vuccellare rappresenti, anche con questa sua volontà, di parlare delle discriminazioni che ci sono verso i pagani, perché noi stiamo assistendo a livello mondiale anche in società che sembravano abbastanza libere a discussioni enormi su quello che vogliono fare i cristiani. E il panorama sarebbe ampio perché ad esempio se ci sarà tempo parleremo di quello che sta accadendo ad esempio anche in Olanda. Comunque Claudio, allora io per darvi una dimostrazione di come il problema del monoteista sia un problema concreto, parto da un dato di attualità. Voi sapete che c'è stato il referendum in Francia sull'Europa. C'è un referendum anche in Olanda se accettano la Costituzione europea. La Costituzione europea la conoscete perché Claudio ve l'ha commentata. Tutti quanti si dovrebbero ricordare quello che il Vaticano ha fatto per cercare di imporre le radici cristiane dell'Europa. Sappiamo che le radici cristiane dell'Europa non sono mai esistite, che l'Europa se esiste, sussiste, rimane per mai, è certo perché ha fatto di tutto per liberarsi da questa intossicazione, da questa contaminazione da parte del monoteismo e del cristianesimo. In Olanda appunto c'è un referendum se accettare o no la Costituzione europea. Al GIA verificato intrinseco normativo della Costituzione europea si pone un altro problema, che chi è attento ai propri diritti si accorge che il monoteismo sta facendo danni. E cosa sta succedendo in Olanda? Il ministro dell'istruzione cristiano democratico, ma strana dicitura che fa capire già da quale cosa appartiene, propone che nelle scuole si parli anche del Dio creatore. Su questa richiesta fatta in Olanda dal ministro cristiano, perché è importante di sostanare cristiano, si sono trovati uniti gli islamici e i cristiani, senza nessun problema. Ma non è per dire che le scuole olandesi funzionano, sono buone, fanno dei bravi cittadini, danno un'informazione e no, dobbiamo insegnare che esista un Dio creatore. E questa è la preoccupazione non solo dei ministri italiani, ma anche di quello che sta succedendo in Olanda. In Olanda se si voterà contro la Costituzione europea, nulla si voterà contro solo per... Ma sei già votato Francesco? No, beh io ero qua... Ha votato ieri ed è stata bocciata la Costituzione europea. Allora, partiamo appunto da alcune dichiarazioni che hanno portato gli olandesi, cioè io non lo sapevo perché mi sono andato preso stamattina, perché oggi c'era l'assemblea della radio e perciò non ho fatto tempo ad asseguire la cosa. E benissimo, allora parliamo di cosa ha portato questa scelta. Qualcuno ha chiesto a vari esponenti il perché di questa scelta, parlando appunto, farò una domanda, ma perché tanta diffidenza verso la Costituzione europea? Perché qui in Olanda abbiamo conquiste per le quali abbiamo a lungo lottato. E parlando dice, ma cosa vi fa temere che possa accadere? Molti segnali, anche dall'Italia, per esempio i tentativi già compiuti da quel vostro ministro cattolico Buttiglioni di influire in Europa su certi temi di cultura morale e sessuale e anche le posizioni appena assunta da Benedetto VI sulla fecondazione artificiale. È un problema di referendum in Italia? Sì, ma quanta influenza ha Roma su Bruxelles? Quando può agire l'interferenza del Papa sull'Europa? Ripeto, ci sentiamo minacciati nei nostri diritti. E parlando del clima dice, sì, il clima è pessimo. Cioè, questa è la dichiarazione fatta da un rappresentante del Comitato per il Nord e la Costituzione europea in Olanda. E questo ha detto che non ci piace la Costituzione europea, non ci piace il clima che i cristiani e i cattolici stanno facendo. La Costituzione europea non ha una radice cristiana, però nel momento in cui diamo uno strumento al discorso che l'Italia cattolica, e questi hanno detto, hanno fatto la campagna non votata della Costituzione europea, perché dentro l'Europa c'è uno Stato come l'Italia che è completamente succupa del Vaticano. Certo che i giornali, pochi, hanno avuto l'onestà di raccontare questo, di dire questo, ma loro hanno detto, guardate che noi siamo preoccupati per la legge sulla fecondazione assistita e per come si sta comportando la Chiesa cattolica in Italia. Questo non è un problema dei politici italiani, è un problema che sono posti gli olandesi. Noi italiani, gran parte degli italiani sono contenti di scegliere di andare a votare come chiederà la Chiesa cattolica. Però pensate che questo tema, che in Italia non si fa informazione, non si fa notizia, chi è attento ai propri diritti, alle proprie conquiste, dico, le nostre conquiste sono conquiste, nel senso che per secoli, per decenni, le persone si sono impegnate per avere delle leggi. E noi ci andiamo a mettere in società con l'Italia succube del Vaticano? Cioè, loro hanno visto la questione europea non tanto in se stessa, perché non è che potremmo criticarla o dargli una valenza negativa, però, dice, in Europa c'è un qualcosa di montante. Pensate che nell'Olanda ha detto fa, per parlare del discorso della Bibbia, di parlare del Dio creatore, in Olanda si sono alleati gli islamici e i cristiani, che poi qualcuno in Italia viene a parlarci e dice lo sconto tra cristiani e islamici. Certo che le persone che hanno una coscienza politica maggiore, o un senso di essere cittadini e di non essere sudditi, si pongono questo problema. E ora, pensate che c'è più sensibilità verso la tematica della fecondazione assistita in Olanda. E di fronte a questa prospettiva di come si sta imbarcando l'Italia, e che certamente l'Italia poi, all'interno della Commissione europea, non sarà certo tranquilla perché cercherà di fare di tutto per imporre i valori cristiani, ha detto fa, corriamo questo rischio, abbiamo uno strumento che è il voto e votiamo non la Costituzione europea. Non si bocciava la Costituzione europea, si bocciava quello che, lo dice chiaramente, sottolinea che non è un ministro italiano, ma un ministro cattolico come Buttiglione. E noi sappiamo la classe politica contemporanea italiana come tranquillamente assecondante dei principi dei valori cristiani. La situazione è gravissima. In realtà in Italia, con l'ingresso della Chiesa Cattolica e con l'elezione del terrorista Ratzinger, perché vi ricordo che Ratzinger è un terrorista in quanto Ratzinger è l'erede di tutta la struttura inquisitoria cattolica ed è responsabile ultimo del genocidio perpetrato dalla Chiesa Cattolica nel corso dei secoli. E questo è un principio giuridico fondamentale della nostra Costituzione e delle nostre leggi. politici. Pertanto Ratzinger è un terrorista, che poi c'è anche un capo dello Stato. Anche Hitler era un capo dello Stato. Anche Pol Pot. Anche Pol Pot era un capo dello Stato. Anche Stalin era un capo dello Stato, se volete. Ma questo nulla toglie alle azioni che hanno fatto e alle decisioni che hanno preso, che sono di una gravità estrema. E Ratzinger ha le stesse identiche responsabilità morali e giuridiche di questi personaggi. Ratzinger è un terrorista. Il problema è che con la sua attività sta effettivamente tentando di saccheggiare l'Europa. Perché vi ricordo una cosa? Che se io ho un aumento di 100 euro al mese di stipendio, 150 euro, ho 150 euro al mese, che dopo mi aumentano i prezzi e mi li levano via da un'altra parte. Ma se mi fottono la cultura, se mi fottono i diritti civili, se mi fottono il sistema pensionistico, io non c'ho da un'altra parte, devo andare. Fioi, ricordate che perdiamo la struttura del nostro paese. E allora sì, nasceranno i vari padri Pio e le mense dei poveri. E allora potranno darvi un piatto di minestra se vi farete battezzare o se vi metterete in ginocchio a pregare. Provate un po' a meditarci su questo che vuole, non è uno scherzo. Stanno andando in quella direzione. Certo, non capiterà a tutti perché una società civile deve avere soldi, deve far circolare denaro. Indubbiamente, ma molte persone sono passate dall'essere dirigenti a quasi l'accattonaggio ed è un problema che la società si sta ponendo. Sì, questo è un problema perché, come sempre, dicevamo in Olanda, forse sono più attenti alla realtà politica, si cerca di proporre qualsiasi cosa che possa assecondare i principi religiosi. E il principio religioso di tutti i monoteismi, perché voglio ricordare che, ad esempio, il discorso della povertà non appartiene solo ai cristiani cattolici, appartiene anche agli islamici. Addirittura in certi paesi islamici esiste per alcune famiglie la povertà coatta in quanto per essere un buon islamico devi fare la carità. E se non ci sono i poveri a cui puoi fare la carità, cosa fai? Il problema che si pone per i cattolici è che per essere dei buoni cristiani bisogna soccorrere i più umili sofferenti. E se non ci sono gli umili sofferenti, come fai a fare poi il buon cristiano? Ah no, è la parola del buon samaritano, no? Sì, questo è un problema consistente, proprio perché le cose hanno una loro anima, chiamiamola così, hanno una loro origine. Il fatto che anche certe certe economiche vengono fatte, vengono fatte non sono state per la follia di chi le fa, ma vengono fatte perché certi principi religiosi monoteisti sono presenti nella nostra società, su una nostra cultura. Se voi pensate al discorso del referendum sulla fecondazione assistita, noi siamo veramente arrivati al punto della dimostrazione di quanto poco conti la persona. I medici italiani hanno addirittura, soprattutto loro, dei medici del Veneto, è entrato in polemica con la fecondazione assistita dicendo che il testo crea un conflitto con le pazienti. Qual è il rapporto dal medico da paziente? Un medico dovrebbe preoccuparsi della salute del paziente. Una cosa che può sembrare scontata, ovvia, idiota, cioè nel senso di formare una cosa come... In realtà, dice, i camici bianchi come vengono chiamati, i medici hanno fatto un invito implicitamente di votare in una certa maniera, di votare sul referendum, di andare a votare. Perché dicono che il nostro scopo, e vi leggo la dichiarazione del medico così siamo anche più chiari, siamo, aperte virgolette, dichiara un medico, siamo preoccupati per una normativa che pur necessaria limita seriamente l'autonomia del dottore e ne condiziona il rapporto con il paziente. Questo l'ha dichiarato il presidente degli ordini di medici di Padova. E allora, rendetevi conto che, proseguo sempre, entrando nei contenuti della professione, la legge ci espropia delle nostre prerogative, crea grosse difficoltà alla organizzazione sanitaria e soprattutto lei dell'alleanza terroepedica-medico-paziente, imporendoci di capire a fondo i bisogni della gente. Le copie sterile ripongono in noi l'unica speranza di vedere rispettato il diritto alla genialità, ma noi siamo vincolati nell'esaudirle. Siamo con le spalle al muro e così il contatto con gli utenti si fa conflittuare. Chiediamo ai cittadini di stringere uno patto con i dottori che così potranno risolvere i problemi molto più velocemente. La legge poteva trattare sugli aspetti medico-legali lasciando a noi quegli etici. Questa è la dichiarazione integrale del Presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. Un medico non fa una valutazione politica, dice il giuramento di Ipocrate, curare la malattia e la sofferenza. Ipocrate, eh? Esatto, non certo di Gesù Cristo o di qualche altro santo. Curare, portare il benessere, affrontare il dolore, curare la malattia, non è un assenuamento cristiano, è un assenuamento di Ipocrate. E il medico, se poi i medici si comportano in questa maniera, possiamo stare. Questa sarebbe la medicina. La medicina sorge con questo. Nell'aiutare le persone, nel sostenerle, nel risolvere i loro problemi, nel non creare la dipendenza. La malattia è una condizione di sofferenza e va rimossa. Benissimo. La legge sulla fecondazione assistita impedisce questo. Il medico e il paziente sono alleati, hanno un contatto, cosa? Per risolvere la malattia. Per poter affrontare con gli strumenti che la medicina offre una soluzione alla loro desiderio. La legge impone un principio morale. Non un principio pratico, un principio morale. Un principio morale che, come sappiamo, sono relativi, sono legati alle visioni culturali. Se sono principi moralistici, la sofferenza rende le persone simili a Cristo. Perciò più le persone soffrono e più le persone sono cristiane. I medici, che non possono accettare il principio di imporre sofferenza o di mantenere la sofferenza, dicono che questa è una legge che ci pone contro i diritti dei cittadini, dei malati o delle persone che non sono malate ma che hanno un disagio. Allora, se i medici, che non fanno valutazioni politiche, non fanno valutazioni religiosi, si accorgono immediatamente che la loro professione viene snaturata, rendetevi conto quale sarà il passo successivo di chi sosterrà questo. Ricordate che siete voi che dovete soffrire. I cristiani, i preti, gente come Scola, gente come Mattiazzo, loro vogliono far soffrire le persone perché solo così rendono le persone uguali a Dio, non se stessi. Ricordate che nel cristianesimo la legge non si applica mai a chi la fa. La si applica sempre al gregge. Sì, sì, ma infatti il gregge è sempre quello che può dire esporto al marcello come sempre. Ma questa situazione, diciamo, di disagio non è solo una condizione di disagio italiana. Dove il monoteismo è presente, in tutte le sue varianti, è un classico. Pensate che negli Stati Uniti l'associazione, l'American Civil Liberation Union, cioè l'associazione più antica, perché riguarda i diritti civili degli individui, ha dovuto piantare una casa con lo Stato americano perché sta destinando soldi pubblici, non la sanità, ma per convincere i ragazzi ad arrivare vergine al matrimonio. Siamo alla foglia pura. Cioè, questa associazione che si occupa delle libertà civili si trova a dover combattere contro un principio morale e hanno dovuto, appunto, incentrare una campagna e delle cause legali per impedire che lo Stato dia finanziamenti enormi, non alla sanità, ma a associazioni religiose cristiane che vogliono convincere in tutte le maniere che il sesso porta malattie. Ci abbiamo dovuto impiegare due mila anni per capire che la sessualità porta benessere, cioè la parola di sessualità porta benessere, porta funzionamento fisiologico in maniera corretta, costruisce un buon rapporto con la vita, ci sono voluti tumi anni, ci è voluta la rivoluzione in psicologia, nella pedagogia, perché i ragazzi potessero masturbarsi tranquillamente e adesso... Ma guarda che la sperma... non fa l'istagazione ai crimini di massa, eh? Ah sì? Tutti gli spermatosi sono genitori, sono... Senti, a me fanno un po' ridere anche quelle pratiche tipo buddiste e di quelli che chiedono scusa per tutti gli insetti che pesteranno, capisci, perché è un po'... Ma tanto li pesti, tanto li pesti... Sì, ma è folle, è folle perché la vita diviene sempre per contraddizione, capisci? E questo vuol dire bloccare la capacità di attenzione di una persona su un'azione e focalizzarla all'azione e non all'insieme in cui l'azione avviene. Cioè, l'insieme della vita, milioni di anni e miliardi di contraddizioni, capisci? No, vedi, sul discorso della violenza... Io ti faccio un esempio, conosco un pagano che alleva conigli e a un certo punto si è posto il problema dice, cavolo, io uccido animali e ha deciso che, ad esempio, uccide i conigli dopo aver fatto un rituale pagano nel senso che... cioè, è un discorso con l'anima però questo qua non è che ha smesso di uccidere conigli se voi pensate che negli anni Ottanta alcuni gruppi pagani americani hanno chiesto, ad esempio, diceva, soprattutto quelli di origine sudamericana di poter sacrificare nei loro riti gli animali vabbè, è una scelta loro, cioè, nel senso che non entriamo nella polemica però la Corte di Giustizia Americana ha detto che era lecito in quanto venivano uccisi con dignità era più violento, soffrevano di più se nei macelli o su certe pratiche di macellazione di conseguenza anche il rapporto cambia cioè, se il buddista chiede scusa agli animali che uccide però non è che smetta di respirare lo fa lo stesso cerca un nuovo contatto, un nuovo equilibrio ma si rende conto che lui per sopravvivere deve fare qualcosa che poi scelga un contatto diverso poi è benissimo farlo, non è un problematico ma se subentasse il principio del peccato, della condanna, della sofferenza del giudizio universale, dell'inferno, dell'espirazione, delle colpe sarebbe ancora peggiore cioè, nel senso che dobbiamo sempre vedere di fronte a un comportamento da cosa trae origine, da dove viene perché ad esempio io mi ricordo spesso, c'era negli anni 70 una studiosa che andò ad affrontare il comportamento moralistico verso ad esempio le bambine e trova incredibile come il fatto che in certe società non cristiane ci fossero dei comportamenti di deduzione sessuale diverse però erano meno traumatici rispetto alla società cristiana per cos'è che aveva il valore aggiunto la società cristiana? aveva il cristianesimo che creava il peccato dicono che questi bambini comprendevano che erano una scelta dei genitori che erano una società arbitraria che erano una società della società che loro si potevano ribellare che potevano fare delle scelte differenti e che nessuno li avrebbe condannati e che non era un peccato di conseguenza pur vivendo nelle stesse tensioni sociali, culturali che vivevano i bambini cristiani questi bambini ne venivano uscivano meglio e questa ricercatrice, questa psicologa diceva ma come è possibile? eppure dal punto di vista tecnico vivono le stesse cose però non hanno il cristianesimo che li fa la zavorra, che li condanna di conseguenza sanno che loro subiscono un'educazione ma questa educazione possono salire da un'altra possono capire che i genitori sbagliano e che loro possono essere in maniera differente che non ci sarà nessun giudizio universale che non ci sarà nessun inferno e che nel cambiare non commettono nessun peccato di fronte a stessi... lei diceva nel Giappone antico le bambine subivano questo nelle società cristiane le bambine subivano questo eppure alla fine diventavano buoni madri le giapponesi e invece le famiglie cristiane andavano peggio dove era la differenza? Eppure il discorso moralistico era uguale era il cristianesimo che faceva veramente il danno le famiglie cristiane ormai vanno in depressione e affogano anche i figli nel bagnetto effettivamente ormai il sindrome post parto cioè il sindrome da depressione dopo parto è una sindrome essenzialmente educazionale cioè è il prodotto di una struttura educazionale che ti ha fatto sia partorire sia che ti accorgi quali sono le costruzioni morali che la società ti impone e credo che si stia diffondendo sempre di più questa roba ma perché si sta diffondendo? perché in questo momento la chiesa cattolica non da qualche giorno ma da mesi sul discorso della fecondazione assistita sta tirando fuori le sue classiche paranoie per cercare di far soffrire le persone e queste cose fanno di emergere nel cosciente delle persone qualcosa in effetti anche per il discorso del bambino ammazzato nel bagnetto se vogliamo il fatto più eclatante di questi giorni Ratzinger doveva stare in galera cioè in realtà il vero mandante di tutta questa storia è Ratzinger Ratzinger con la struttura educazionale stupra le persone costringendo il ginocchio costringendo sottomesse a strutture morali coercitive di una violenza immane bene Ratzinger doveva stare in galera perché è colpa sua se ciò è avvenuto esattamente come è colpa di quel magistrato che non ha tolto i crocefissi perché vigliacamente vuole costringere bambini in ginocchio davanti ai crocefissi queste sono ciò che porta alla distruzione della società certo che a uno gli fa comodo avere l'aumento di 50 euro al mese di stipendio ma se dopo viene distrutto il sistema sociale costringendo bambini in ginocchio costringendo madri a sottostare una struttura morali corale coercitiva costringendo le persone all'interno di dogmi che sono autodistruttivi e sono imposti violentemente nella struttura emozionale è chiaro che la società ne risente è chiaro che viene fuori la distruzione sociale e torno a ripeto è Ratzinger dove sta in galera si, infatti aggiungiamo una cosa un fatto di cronaco c'è solo il padovano cerca di ammazzare la sua bimba ho visto in lei il volto di satana grazie a tutti